Buongiorno a tutti. Affrontiamo oggi il commento insieme a Don Giovanni del Vangelo di domenica 16 maggio, l'ascensione del Signore al cielo. Gesù appunto ascende al cielo e affida anche ai Suoi Apostoli la missione di testimoniarlo al mondo. È grandioso il mistero dell'ascensione che celebriamo in questa domenica e che vi auguro di vivere nella gioia, nella serenità e soprattutto nella presa di coscienza che ci impone. Gesù risorto è il Signore della storia, rimane presente pur sottraendosi al nostro sguardo, alla nostra possibilità di conoscenza sensibile, e lo incontriamo, lo possiamo frequentare nella missione affidata alla Chiesa. Ecco, sottolineo tre aspetti di questa missione nella sua immediatezza, nella sua concretezza e anche in quello che ci richiede di presa di coscienza. Innanzitutto, l'annuncio del Vangelo, l'abbiamo sentito, conduce alla fede e al battesimo. Dobbiamo dire subito che la fede è il battesimo, il battesimo è la fede. Non si tratta qui di attuare una scaletta, ahimè alquanto insana e frequentemente messa in atto nella nostra insensata pastorale. Prima bisogna annunciare, così l'annuncio porta alla fede e dopo essere arrivati alla fede arriviamo a celebrare anche il battesimo. Non è così, perché l'annuncio, la fede e il battesimo sono tre dimensioni compresenti, strutturali e strutturanti la vita cristiana. Innanzitutto, l'annuncio è già dimensione di fede ed è già grazia battesimale che ci raggiunge. E la fede è l'annuncio accolto, fatto fruttificare e che arriva a gemmare nel battesimo. Il battesimo è il sigillo che dice il frutto dell'annuncio, il frutto della fede. L'annuncio e la fede che trovano la loro compiuta realizzazione. Questa è una prima considerazione, perché noi non siamo venditori di idee o di, peggio ancora, ideologie o dei benpensanti che hanno qualcosa da insegnare agli altri. La missione, secondo aspetto che voglio richiamare, è continuare nel suo nome. Vedete, non si tratta di portare avanti dei compiti che ci sono assegnati. Si tratta sempre di Lui che agisce in noi e conferma la Sua parola. Noi non abbiamo una missione. Noi siamo la missione. E in questo senso possiamo dire di essere veramente cristiani riusciti. La terza semplice e immediata considerazione è La missione ci è affidata perché Lui fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Così ci dice l'Evangelista Marco alla conclusione del suo Vangelo. Quello che noi viviamo è la Sua signoria sulla storia, su tutta la creazione, fino a raggiungere, come ci ricorda Paolo agli Efesini nella seconda lettura, la misura della pienezza di Cristo. Ecco allora il mistero dell'ascensione. Gesù è presente in quello che noi annunciamo, nella fede che condividiamo, nel battesimo che celebriamo. Gesù è presente perché noi siamo la Sua missione. Gesù è presente perché continua ad essere il Signore della storia, il Signore di tutta la creazione. che vogliamo portare alla pienezza di Dio. Buona Domenica, buona Ascensione del Signore.